Dopo aver completato il primo ciclo di questi corsi in Formedil, il corso base, siamo tornati qui a Perugia per la realizzazione invece del primo dei quattro corsi avanzati. Vi ricordo brevemente che abbiamo organizzato questi corsi insieme al Formedil Italia e le scuole edili in quattro località diverse. Siamo qui a Perugia adesso, poi torneremo a Milano, a Ragusa e poi a Bari per completare questi due cicli. Come nel corso base, anche questo corso avanzato è organizzato in tre diverse giornate e così è stato realizzato. Sono 24 ore, otto ore ogni giornata lavorativa, che prevedono sia un corso teorico in aula che un corso pratico qui nella scuola di Posa della scuola di Perugia. Diciamo che abbiamo dato preferenza all'applicazione lasciando per la parte teorica solo una porzione di circa due ore ogni giornata. Nelle parte teorica abbiamo illustrato quelle che sono le prestazioni principali dei sistemi in cartongesso e in particolare abbiamo dato delle indicazioni generali sulle prestazioni di tipo termico, di tipo acustico, per quanto riguarda la protezione al fuoco e tutte quelle caratteristiche meccaniche che permettono di realizzare dei sistemi di elevata qualità. All'interno della parte teorica poi abbiamo cominciato a illustrare, a partire dal tracciamento fino alla realizzazione, delle superfici che nel caso specifico del corso avanzato sono delle superfici curve, quindi delle pareti a doppia S e poi un controsoffitto ad onde. Forse sullo sfondo si riesce a vedere la realizzazione di una di queste pareti. Nel corso base avevamo dato delle indicazioni generali su come si realizzano dei manufatti semplici, pareti dritte piuttosto che controsoffitti anch'essi dritti, mentre questo corso avanzato è volto a inquadrare quelle che sono tutte le operazioni che servono appunto a organizzare e preparare delle soluzioni in superfici curve. È evidente che questo corso è un passo avanti rispetto al corso base perché la complicazione, le difficoltà che sono insite nell'organizzare sia la parete curva che la superficie ad onda sono decisamente più complesse. Per cui nella parte pratica abbiamo dato ampio risalto e sviluppo sia al tracciamento sia al posizionamento di particolari montanti e guide deformabili che permettono quindi di fare delle superfici curve, sia al posizionamento dei montanti e delle guide, sia alla procedura abbastanza particolare di posizionamento della lastra nella sua avvitatura. per cui compresa anche la bagnatura della lastra per permettere di seguire le curve senza difficoltà e senza che la lastra stessa possa subire delle rotture. Nel caso specifico sia per le superfici piane che per verticali, sia per le superfici curve orizzontali abbiamo utilizzato la lastra da 6 mm. La lastra da 6 mm permette di fare delle curvature senza avere problemi sulla lastra. Sia per la parete che per il controsoffitto abbiamo utilizzato due lastre da 6 mm. Le tre giornate della parte pratica sono state divise con il primo giorno è stata eseguita la parete curva, il secondo giorno abbiamo fatto il soffitto ad onde mentre la terza giornata è tutta dedicata alla stuccatura, al trattamento del giunto sarebbe più corretto dire. Per cui a partire dai quattro livelli qualitativi del trattamento del giunto e della lastra che sono riportati anche nella norma 11.424 e che permette di fare sia delle finiture diciamo così grezze sia delle finiture di superfici speculari proprio per poter assolvere a tutte quelle qualità che vengono richieste a delle pareti particolari dalla geometria particolare e quindi dalla anche estetica elevata e quindi permettere di avere superfici assolutamente curve. Alla fine del corso ovviamente sarà distribuito e consegnato ai corsisti anche un attestato che in qualche modo li qualifica come dei posatori che hanno superato il corso e che hanno quelle qualità minime per poter operare in cantiere sia con strutture di tipo semplice sia con strutture già di tipo complesso. È evidente che questo corso avanzato non può esaurire tutti i variegati temi che sono all'interno dei sistemi di gesso rivestito, in particolare ci stanno altre strutture curve come le volte a botte piuttosto che le volte a crociera o le cupole che dovranno costituire almeno per quanto ci riguarda dei passi ulteriori per poter qualificare ancora ulteriormente il posatore. C'è da dire però che una volta acquisite gli strumenti base per realizzare superfici curve l'allievo che frequenta questi corsi ha tutti gli strumenti, i mattoni di base che gli permettono comunque di operare con qualsiasi tipo di superficie curva. Grazie. Grazie.